Com'è andata? Bene. Gli ho detto che mi perseguitava e che era come impazzita. Senti, smettila di sentirti in colpa. Quella era completamente matta. Le serviva aiuto, quindi. Certo, aiuto, quello vero però. Non quello di una studentessa di psicologia. C'è un lato positivo, no? Saltiamo una lezione per il funerale. No, 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 non c'è funerale, perché non c'è Salma. Cosa vuoi dire? La polizia è venuta allo studentato e non sanno dove l'ha fatto, ma non l'ha fatto lì. È dallo scorso weekend che non striscia la sua carta magnetica. Ma quello che sul serio mi manda fuori di testa è che non sanno neanche chi fosse davvero. Tutti i suoi dati personali, la tessera sanitaria, non ci sono più nel database. Pensano che Marina Mills non fosse il suo vero nome. Eh, dici sul serio? Certo. Beh, è strano. State distruggendo la mia pausa cheeseburger. Brand Request dall'8 giugno al cinema.